Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene amici, purtroppo la calima oggi è ancora qui con noi, quindi io vi lascio subito in compagnia del video che vi abbiamo registrato questa mattina verso le 11 e ci vediamo come sempre alla fine del video. Grazie a tutti. 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 anticipato e come avrete potuto vedere la calima purtroppo è ancora qui con noi e è uscita proprio quest'oggi la notizia che rimarrà ancora per la giornata di domani di lunedì qui a Lanzarote la cosa un po' tra virgolette brutta della calima è sicuramente la respirazione però voglio dire abbiamo le mascherine e servono anche per quello quindi mi raccomando se siete qui in vacanza indossatevi prima di salutarvi vi do un aggiornamento per quanto riguarda i casi perché oggi ci sono state 47 nuovi positivi ma il numero dei riguariti è aumentato e siamo arrivati a 4.300 casi attivi sull'isola io ragazzi direi che per oggi è tutto vi auguro una buona serata vi do appuntamento come sempre a domani per un nuovo video sempre qui su curiosando Lanzarote un bacione a tutti buona serata